addirittura a Siviglia era andata in vantaggio l'Islanda con questo gol di Pettersson al 35esimo minuto del primo tempo una piega clamorosa per la partita in questa città a Siviglia si giocava col caldo era forse stata scelta proprio una sede di questo genere dagli spagnoli per aumentare le loro chance che comunque vengono poi realizzate nell'arco del già del primo tempo con il parigio al 45esimo minuto di Rincon vale a dire proprio alla fine del primo tempo il pareggio è giustificato all'esultanza del marcatore esultanza anche sugli spalti dei tifosi sivigliani e poi il gol decisivo è realizzato al settimo della ripresa da Gordiglio in un momento in cui la Spagna preme con molta intensità e con questa mezza girata di Gordiglio dà la vittoria e la qualificazione alla Spagna dall'esultanza di Gordiglio e la sua capriola immediatamente al tabellone